Corse gratuite verso le strutture ospedaliere per gli Over 65, clienti di Estra, un progetto della Multi-Utility Toscana e della Cooperativa Taxi presentato alla stazione di Arezzo. Il cliente chiamerà normalmente un taxi, il tassista arriverà a prenderlo sotto casa, il cliente potrà essere anche accompagnato da un familiare, lo accompagniamo verso una struttura ospedaliera della città pubblica. A fine corsa il tassista prenderà nota del nome e del cognome del cliente, il cliente non pagherà niente. Il servizio interesserà l'intero comune di Arezzo? Sì, assolutamente sì, è l'intero comune di Arezzo, dunque si può chiamare da Polisciano, da Riguitino, dal comune di Arezzo per essere accompagnati presso una struttura ospedaliera. Un rapporto, quello tra Estra e Taxi Arezzo, è iniziato nel dicembre 2020, quando l'azienda mise a disposizione 500 corse gratuite, anche in questo caso per gli Over 65. Adesso saranno per ora 200 le corse messe a disposizione dei clienti Estra, che hanno compiuto il 65esimo anno d'età. Sarà sufficiente mostrare la bolletta a gas e luce o anche una foto di essa. Quindi è un supporto ulteriore per le tante persone che spesso sono sole, hanno difficoltà o a essere accompagnati da un familiare, oppure a prendere un mezzo pubblico. Questo è un altro mezzo pubblico che si mette con generosità a disposizione, perché evidentemente anche la categoria contribuisce in quota parte a sostenere economicamente questo tipo di servizio. Quindi un modo di rappresentare un'azienda del territorio anche per la responsabilità sociale che deve esprimere. La città è stata attivata nel periodo Covid, ha funzionato ed è funzionale, perché le persone che hanno necessità, che hanno un problema oppure che non possono andare per un servizio così importante che è quello della sanità, in questa maniera riescono ad andare gratuitamente a fare quello che è necessario per la loro salute. Quindi veramente grazie, andiamo avanti con la collaborazione fra i vari associazioni ed enti che insieme all'amministrazione comunale portano avanti un integrale essere rivolto ai nostri concittadini e quindi bene così e grazie a tutti.